Paolo Azzi, terza amicole stagionale, non da semplice come vostra squadra. No, bene, si vede che siamo nella strada giusta, oggi hanno anche detto a prima il livello fisico come eravamo, c'era la stanchezza, è normale, vuol dire che stiamo lavorando forte, abbiamo ancora una settimana piena da fare, cerchiamo di arrivare già, dobbiamo essere già pronti per il 31, cerchiamo di arrivare nel meno modo possibile. Rispetto allo scorso anno stai facendo il ritiro, lo scorso anno purtroppo non sei riuscito a falla, questa cosa è importante, no? Sì, soprattutto a livello del ruolo, diciamo così, perché a livello fisico chiaramente cerco di migliorare sempre, però il ritiro per me quest'anno anche sto cercando di sfruttare per ascoltare come posso migliorare nel reparto difensivo, anche perché faccio il mio salto di categoria. I giocatori hanno una qualità più elevata e quindi devo cercare di migliorare soprattutto su quello. Cosa stai dicendo in particolare per farti crescere? Cioè quante cose ti preoccupare? È questo, questa è una cosa che il mister cerca di aiutarmi chiaramente, anche a livello personale e soprattutto per aiutare la squadra, di stare attento, di mettermi bene in campo, di guardare la linea, di cercare di fare anche questo gradino in più a livello difensivo. Mi hai detto giustamente, mancano 15 giorni al debutto ufficiale, manca veramente poco. Cosa servirà a fare in questi 15 giorni per arrivare almeno pronti, al 100% ma pronti alla prima partita ufficiale? No, credo che, come ho detto, approfittare ancora questa settimana piena che abbiamo di ritiro e affrontare nel modo giusto questa prima partita, sapendo che per noi è un'occasione di avere il minutaggio per poi arrivare alla prima partita di campionato bene.